Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere due problemi di fisica relativi alle trasformazioni termodinamiche, in particolare alle trasformazioni adiabatiche. Non dimenticatevi come sempre di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati e lasciate un bel mi piace qui sotto. Il primo problema che vi propongo è questo. Una mole di neon monoatomico si trova in condizioni standard di pressione e temperatura. Il gas è riscaldato prima a volume costante, quindi trasformazione isocora, finché la sua pressione non triplica. Poi a pressione costante, trasformazione isobara, finché il suo volume non raddoppia. Tutto va bene perché il gas si comporta come gas perfetto. calcola il calore fornito al gas durante l'intero processo. Sono andato per comodità a rappresentare su un piano, pressione e volume, quello che è la serie delle due trasformazioni. Quindi potrete vedere prima rappresentata l'escaldamento, quindi la trasformazione isocora. Siamo dal punto A al punto B e poi quella che è l'espansione isobara. Ho indicato le ascisse e le ordinate seguendo appunto i dati del problema. Quindi abbiamo che il volume in A è pari al volume in B, che la pressione in B è il triplo rispetto alla pressione in A e il volume in C, quindi nella situazione finale, nello stato finale è il doppio rispetto al volume in B, che però è pari a quello iniziale. Andiamo quindi a chiederci quello che è il calore coinvolto in questo processo. Nel primo tratto AB, trasformazione isocora, andiamo a esprimere il lavoro come il calore specifico molare a volume costante per il numero di moli per la variazione di temperatura. Essendo un gas monoatomico, posso scrivere tre mezzi nR per la variazione di temperatura che è T con B meno T con A. Da dove ricavo le due temperature? Utilizzo l'equazione di stato del gas perfetto, quindi il prodotto pressione volume è pari al numero di moli per la costante R per la temperatura. La temperatura T con A è quindi è pari alla pressione per il volume fratto nR, parliamo dello stato A. Analogamente la temperatura in B, pressione in B, che poi vedete espressa come tre volte la pressione in A, come da dati del problema, per il volume nR. Nella relazione precedente vado a sostituire quindi questi due valori di temperatura. Controllate con calma i passaggi, si vede facilmente che semplifichiamo il numero di moli e la costante R. Eseguendo prima correttamente la sottrazione, poi il prodotto, questa quantità di calore è pari a tre volte la pressione in A per il volume in A. Andiamo quindi a valutare la quantità di calore relativa all'espansione isobara. In questo caso esprimiamo questa quantità di calore come il calore molare a pressione costante per il numero di moli e la variazione di temperatura. Si tratta sempre di gas monoatomico, quindi la costante che introduciamo è 5 mezzi, 5 mezzi Rn, variazione tra le due temperature. Come ho fatto sopra, ricavo i due valori di temperatura dall'equazione di stato del gas perfetto. Nel caso della temperatura nello stato C, stato finale, otteniamo tre volte la pressione in A per il volume in C che è due volte il volume in A fratto il prodotto nR. Nel complesso sei volte pressione in A, volume in A fratto nR. Per quanto riguarda la temperatura in B già l'avevo ricavata al passaggio sopra, quindi semplicemente la riprendo. Tre volte la pressione in A per il volume in A fratto nR. Andando anche qui a sostituire, eseguendo le dovute semplificazioni con attenzione, e quindi il prodotto che risulta dopo le semplificazioni stesse, otteniamo che la quantità di calore è pari a 7,5, 5 mezzi se preferite, pressione in A, volume in A. Nel complesso quindi la quantità di calore la possiamo ottenere sommando le due quantità di calore trovate sopra e otteniamo 21 mezzi pressione in A, volume in A. Quanto valgono però pressione e volume rispettivamente? Ci viene detto che il gas si trova in una condizione standard. La pressione quindi è quella atmosferica e il volume? Non abbiamo alcun riferimento al volume, se non che stiamo operando con una singola mole di gas perfetto. Una singola mole di gas perfetto, vi ricordo, va a occupare sempre in condizioni standard un volume di 22,4 per 10 alla meno 3 metri cubi. Ricordando quindi questo risultato, questo valore, il gioco è fatto. Andiamo a sostituire nella relazione precedente il valore di pressione standard, il valore di volume, con le dovute semplificazioni otteniamo il valore di 2,38 per 10 alla 4 joule e questa è la quantità di calore complessiva. Il secondo problema che vi propongo è questo invece. Dice una certa quantità di gas perfetto occupa un volume di 2 litri, volume iniziale, vi ricordo che ogni litro è pari a un decimetro cubo, alla pressione di 1,01 per 10 alla 5 pascal. Il gas viene lasciato espandere, quindi espansione, adiabaticamente fino a un volume di 20 litri. Vi ricordo che nelle trasformazioni neadiabatiche non vi è scambio di calore, non vi è calore in transito, fino a un volume di 20,0 litri. Viene poi compresso in modo isotermo, quindi a temperatura costante, fino a tornare al volume iniziale. Qual è la pressione del gas quando occupa il volume di 20 litri, quindi nel secondo stato, nel caso in cui il gas sia monoatomico, biatomico. Tracci grafici delle due trasformazioni nel piano pressione volume per il gas monoatomico. Stabilisci quindi se il lavoro è fatto dal sistema, quindi ha un valore positivo come lavoro, oppure sul sistema, quindi lavoro negativo subito, tra virgolette, dal sistema. Ho scelto di rappresentare graficamente quindi la situazione in particolare in relazione al gas monoatomico, come mi veniva chiesto. Nel primo caso quindi vedete quella che è l'espansione adiabatica, si passa dallo stato A allo stato B e poi quella che è la compressione, quindi la riduzione di volume isoterma. E si va a tornare nello stato C ad avere lo stesso volume che avevamo in A. Ecco, trattandosi in particolare nella situazione di trasformazione adiabatica, quella che dobbiamo esaminare, è utile ricordare la relazione che lega pressione volume. La pressione iniziale per il volume iniziale elevato alla gamma meno 1 è pari alla pressione finale per il volume finale elevato alla gamma meno 1. Questo coefficiente gamma, vi ricordo, è pari al rapporto tra i calori molari, in particolare il calore molare a pressione costante e il calore molare a volume costante. Nel caso di gas monoatomico questo rapporto ci porta al valore di 5 terzi, qui ho ripreso un attimo i passaggi. Nel caso invece di gas biatomico, che è il secondo del problema, abbiamo il valore di 7 quinti. Riflettuto su ciò, possiamo quindi andare a fare le nostre considerazioni. Applichiamo la relazione che ho appena citato. Nel caso di gas monoatomico, andiamo a ricavare il valore di pressione nel punto B, che è pari al valore di pressione nel punto A, per il rapporto tra il volume in A e in B il tutto alla gamma meno 1. Sono andato a sostituire i valori numerici dati del problema. Notate che nel rapporto tra volumi non sono andato a esprimere i due volumi appunto in metri cubi o decimetri cubi, li ho lasciati in litri. Comunque si tratta di un rapporto tra grandezze omogenee. Con l'attenzione, insomma, dovute ai calcoli, arriviamo al valore di pressione di 2,18 per 10 alla 4 pascal. Mi raccomando, controllate sempre tutto e magari anche su carta con calcolatrice verificate o autonomamente provate a rieseguire questi passaggi. Nel caso invece di gas biatomico, sempre riutilizzando la relazione precedente, questa volta con il valore di gamma pari a 7 quinti, andiamo a ottenere un valore di pressione pari a 4,02 per 10 alla 4 pascal. Quindi notiamo che nel caso di gas biatomico si va a raggiungere un valore di pressione che è quasi rispetto a quello precedente. Circa il lavoro. Allora, in relazione al lavoro direi che possiamo ricordare che il lavoro può essere associato nel piano pressione-volume all'area dei sottografici. Nel complesso, andando dal punto A al punto B, abbiamo un'area che avrà valore positivo che pari alla parte di piano compresa tra il grafico della trasformazione da A a B e l'asse dei volumi, poi sulla verticale A a B. Nel caso invece di trasformazione da B a C, trattandosi di una compressione, quindi di una riduzione di volume, il lavoro deve essere preso con segno negativo. L'area, compresa tra i punti C e B e appunto l'asse dei volumi, risulta essere superiore rispetto all'area del sottografico A a B. Quindi area positiva da A a B, area negativa da B a C, ma in valore assoluto, in termini proprio di estensione, quella da B a C è superiore. Nel complesso quindi il lavoro risulterà avere un valore di segno negativo. Direi che con questa considerazione posso concludere questo video. Vi ringrazio per l'attenzione, vi rivolgo un caro saluto e vi do appuntamento al prossimo video.